vi vedo carichi, tricarichi amici di Play TV naturalmente sempre insieme in questa fantastica settimana abbiamo conosciuto i personaggi abbiamo visto di tutto di più un mashup di colori con i Cucu Jambu e quindi li salutiamo con Cucu Jambu guardami Verigiana insegna a Giucas che ci è arrivato da poco quali sono i passi del Cucu Jambu vieni, vieni Verigiana, attenzione attenzione Cucu, Cucu, Jambu Cucu, Cucu, Cucu Cucu, Jambu giro, giro, giro attenzione, fermi allora, Giucas bravo, l'occhiale ci piace molto Cucu Jambu, Giucas imparerà i passi del Cucu Jambu Giucas, vai vai Lisa Cucu, Jambu Cucu, Jambu giro, 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 giro ancora allora, amici è arrivato anche Giucas in questa prego, avanti Andrea ci dica Elisa, ci dica lui mi deve ipnotizzare attenzione, abbiamo il mago più pettinato del mondo guardaci guardami no, io ho paura quando lo dice lui quando solo quando lo dico io solo quando lo dico io solo quando lo dice lui non ci guardare troppo è meglio che ti metti in mate ma che avete fatto? Giucas ci piaci bene, lasciamoci col motto che è il Cucu Jambu Cucu Jambu stia